Il fair play per Paolo è stato diciamo un modo di vivere, diceva sempre che la correttezza, i valori veri, lo spirito di amicizia e di collaborazione dovevano esistere dentro il campo e anche fuori dal campo, quindi il fair play è proprio un modo di vivere, è stato un modo di vivere per Paolo. Paolo ritirò il premio Menarini nel 2010, fu molto felice di ricevere il premio perché per lui il fair play è sempre stato un suo modo proprio di vita, un suo modello di vita. Per lui fu veramente un premio che rispecchiava proprio il suo spirito, la sua anima, il suo modo di essere grazie del premio del 2010 e grazie anche di questo nuovo tassello, di questo nuovo premio intitolato alla memoria di Paolo. Mi auguro che chi riceverà questo premio fair play dedicato a Paolo possa davvero incarnare i valori e i principi che Paolo ha sempre trasmesso al mondo intero e che si senta onorato di questo riconoscimento. Ecco, solo questo lo chiedo, lo chiedo con tutto il cuore perché so che Paolo ci avrebbe tenuto e so che ovunque sia insomma sarà felice che venga riconosciuto una persona degna di questo premio. Grazie.